Un ricco dossier è quello prodotto dal vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle che certifica attraverso i numeri una situazione disastrosa per l'Abruzzo dopo quattro anni e mezzo di giunta a Marsilio. Numeri che collocano secondo Pettinari l'Abruzzo tra le peggiori regioni d'Italia su più indicatori. La sanità è il primo banco di prova, uno stato di salute pessimo per il pentastellato, quello del sistema sanitario regionale a pagarne le spese sono gli abruzzesi. Abbiamo un focus particolare su liste d'attesa, spesa farmaceutica, mobilità extra regionale, sull'anziani, RSP, residenze protette, anche su salute mentale. È venuto fuori questo quadro devastante, udite udite sulla mobilità passiva extra regionale. La regione Abruzzo ha un saldo di meno 154 milioni di euro, significa che abbiamo pagato 154 milioni di euro di prestazioni perché i cittadini abruzzesi evidentemente non si fidano della nostra sanità, fuggono via, vanno fuori. Sulla spesa farmaceutica abbiamo uno scostamento di 370 milioni nel monitoraggio annualità 2019-2021, significa che c'è una spesa folle, fuori controllo e la regione Abruzzo non riesce a fare programmazione. Sulle prestazioni sanitarie sospese da Covid e non recuperate abbiamo rilevato oltre 70 mila prestazioni sanitarie non recuperate, significa che la nostra agenda si ammalerà di più, la nostra agenda non viene curata e questo è veramente un dato pazzesco. Sul monitoraggio sulla prevenzione maglia nera d'Italia, una delle ultime regioni d'Italia, infatti abbiamo un punteggio sulla prevenzione di 3,70, 30,70 su 100, quindi gravemente insufficiente e la prevenzione significa che far ricoverare più persone, far entrare più persone in pronto soccorso, in ospedale, non funziona la medicina territoriale. Sulla salute mentale è catastrofico il dato, meno 40% di strutture sanitarie in meno rispetto al valore di riferimento nazionale. Sul anziani e residenze protette e residenze sanitarie assistite, udite, udite, abbiamo 600 posti letto non assegnati nella provincia di Pescara, che significa che non assegnare i posti letto nelle residenze protette, significa parcheggiare gli anziani in pronto soccorso, poi vediamo quelle lunghe file anche di cinque giorni nel pronto soccorso di Pescara, anziani che non riescono ad essere dislocati all'esterno, allocati nelle strutture sanitarie perché non sono stati assegnati. Ecco questo è il quadro devastante, il più grande fallimento della storia del centro-destra che sta governando Regione Abruzzo.